Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In primo piano la politica cittadina. Fra poche ore il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba renderà noti i nomi degli assessori della sua giunta. Crisi anche a livello nazionale. Il premier Conte ha rassegnato le dimissioni dinnanzi al presidente Mattarella. Poi il ritorno delle medie in presenza. Non mancano le polemiche. Alcune mamme ai microfoni di TV City si dichiarano favorevoli al ritorno fra i banchi di scuola. Non manca il consueto aggiornamento sui contagi. Nei comuni del Vesuviano, ieri a Torre del Greco, si registra un altro decesso. In chiusura la cronaca con la maxi operazione dei carabinieri a Castellammare. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Lo stallo di Palazzo Baronale dopo l'azzeramento della giunta comunale dovrebbe arrivare ad una conclusione nei prossimi giorni. Dagli ultimi incontri del sindaco Palomba con rappresentanti di maggioranza ed opposizione potrebbero essere emersi i nomi degli assessori. E' sempre più sicura la nomina per Felice Gaglione e Peppe Speranza, nomi già emersi un mese fa quando si parlava di un possibile rimpasto nella giunta. Quasi certa anche la riconferma di Enrico Pensati, assessore uscente dall'ultimo esecutivo. Due assessori donna dovrebbero aggiungersi al nuovo team di Palomba. Il punto nevralgico è il ruolo dei due consiglieri leghisti, Mele e Buono, che dopo aver chiesto con vigore le dimissioni del primo cittadino, sembrerebbero aver cambiato opinione negli ultimi giorni, manifestando un supporto all'avversario Palomba. E' possibile che quella che, a detta dell'ex sindaco Borriello, è stata una conversione sulla via di Damasco, possa portare a due nomine nell'opposizione. Intanto il centrodestra cittadino tuona contro le ultime indiscrezioni. Siamo pronti a scendere in piazza per accogliere firme per elezioni subito. Questa è la nostra risposta alle notizie che girano di un accordo tra i vari consiglieri comunali di opposizione ed il sindaco Palomba per entrare in maggioranza. Così il commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni, Luca Alini, Fratelli d'Italia, sezione di Torre del Greco, non è disponibile ad alcun governo di larghe intese e non avvallerà mai l'operato di un'aggiunta che fa del mercimonio la propria insegna politica. Noi non partecipiamo ad un governo con forze di sinistra. Chi eventualmente lo dovesse fare lo farà meramente ed esclusivamente a titolo personale, autoescludendosi così dalla vita del partito. È la chiosa del coordinatore del Miglio d'Oro di Fratelli d'Italia, Salvatore Quirino. Il presidente del Consiglio, Conte, ha lasciato il palazzo del Quirinale, dove pochi minuti fa ha consegnato le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Premier aveva già comunicato le dimissioni nel Consiglio dei Ministri di questa mattina, un incontro che a quanto pare si apprende e si è chiuso con un momento molto affettuoso e gli applausi dei ministri al Premier. Ringrazio l'intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme, avrebbe detto Conte. I capi delegazione del Movimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede, del PD, Dario Franceschini e di libri uguali Roberto Speranza avrebbero ribadito in tale seduta il loro sostegno a Giuseppe Conte. Con la fine del governo Conte bis bisogna guardare al futuro. La decisione è nelle mani del presidente Mattarella, ma è altamente improbabile che si torni alle urne. Data l'emergenza pandemica, è quasi scontato che dal Quirinale arrivi la nomina di un nuovo presidente del Consiglio. Dato il clima disteso e la fiducia in Camera e Senato della scorsa settimana, è sempre più concreta l'ipotesi di un Conte Ter, con un sostanziale rimpasto fra i ministri. Da alcune indiscrezioni però emerge anche la possibilità di un governo tecnico guidato tra Mario Draghi. Non è chiaro invece il ruolo della compagine d'Italia Viva, causa della crisi politica del nuovo governo. Le medie tornano in classe in Campania, ma non senza polemiche. Ieri mattina anche le scuole secondarie di primo grado sono tornate alla didattica in presenza, dopo la decisione del TAR che ha bocciato le ordinanze del governatore De Luga. Tuttavia il ritorno fra i banchi non è stato semplice e le polemiche non si sono interrotte. Molti genitori sono ancora preoccupati e contestano la scelta di tornare a scuola, nonostante l'imperversare della pandemia. Si aggiunge che, data l'età degli alunni, molte scuole del territorio sono state teatro di assembramenti incontrollati, soprattutto durante le entrate e le uscite. In relazione alle notizie e alle immagini pervenute, l'unità di crisi della Regione Campania ha invitato i sindaci a predisporre ai mirati servizi di controllo da parte delle polizie municipali, in particolare nelle fasi critiche della giornata. Ad aggravare la situazione è il fatto che molte scuole non sembrano ancora pronte a livello strutturale per accogliere gli alunni in sicurezza. Un genitore di Torrel Greco ci segnala che nella scuola dei figli, non essendoci ancora un sistema di ventilazione adeguato ad impedire la diffusione del virus, gli alunni sono costretti a fare lezione con le finestre spalancate, soluzione ben poco condivisibile in pieno inverno. Alle famiglie sarebbe stato anche richiesto di munire i figli di un plaid da indossare in classe durante le lezioni. Nonostante i disagi e le preoccupazioni sul rientro a scuola, i torresi alle nostre telecamere hanno espresso soddisfazione per il ritorno fra i banchi. Per molti ciò che offre la scuola in presenza, dall'interazione con i compagni alla vicinanza fisica delle insegnanti, non è in alcun modo sostituibile dalla didattica a distanza. Sinceramente c'era un po' di scetticismo, quindi speriamo che vada tutto bene e che non ci sia assembramento soprattutto fuori dalle scuole, perché secondo me il problema non è tanto all'interno ma quanto all'esterno, quindi speriamo che ci sia comunque attenzione anche all'esterno delle scuole, questo è quello che vorrei dire. Alunni che dopo quasi un anno di didattica a distanza tornano in presenza. La DAD per certi motivi è stata una salvezza, però i nostri ragazzi sono stati isolati in casa e quindi hanno avuto poca possibilità di socializzare e di stare con i loro amici, soprattutto per esempio mia figlia è in prima media, quindi non conosce bene insegnanti, amici. Sì, speriamo che questa sia un'occasione per cominciare a socializzare anche. Speriamo bene, c'era un po' di folla, penso un po' anche per cercare di assestarsi, però speriamo bene, insomma la scuola è importante, quindi è importante che riprenda. Lei sono già alcune settimane che manda i propri figli a scuola, qual è il risponso, la differenza con la didattica a distanza? Sicuramente c'è un maggiore confronto, quindi c'è più immediatezza anche con l'insegnante e poi anche il condividere un po' gli spazi, la lezione in sé è sicuramente vantaggioso. La didattica a distanza ci rendeva più sicuri, sicuramente ci rendeva un po' più tranquilli. Speriamo. I suoi figli come hanno preso il rientro a scuola? No, no, erano contentissimi, erano contenti perché comunque gli amichetti mancano. Sono della scuola primaria, siamo rientrati la scorsa settimana e è davvero positivo, sia come organizzazione delle entrate, le uscite, i bambini sono molto felici di essere in classe e quindi incrociamo le dita affinché continui sempre così bene. Dal punto di vista del docente ha notato la differenza di questa didattica a distanza che ormai andava avanti da quasi un anno? Certo, la differenza c'è perché in presenza comunque è molto più coinvolgente, però anche a distanza insomma abbiamo cercato, ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo cercato di realizzare quanto meglio potessimo dare. E quindi penso che sia comunque grandioso essere qui in classe ed essere rientrati. Adesso speriamo che si continui. Il riscontro con le famiglie qual è stato? Le persone hanno fiducia nella scuola, nel rientro? Beh, da quello che riguarda le mie classi sì, perfetto, i genitori sono contenti, ma hanno collaborato tantissimo, sono stati davvero delle famiglie eccezionali perché hanno collaborato tanto anche a distanza insieme alla scuola, quindi io non ho avuto problemi anche in DAD, ma adesso certamente siamo felicissimi del rientro. A Torre del Greco nella giornata di ieri sono stati registrati 44 nuovi casi di positività da Covid-19, di cui un ripositivizzato in isolamento domiciliare. Questo affronta di 26 nuove guarigioni. È stato comunicato anche il decesso di un uomo di 82 anni. Sale di nuovo, quindi, il bilancio agli attualmente positivi, ad oggi 364, di cui 24 ricoverati con sintomi, mentre sono 87 i torresi deceduti da inizio pandemia. Si aggrava anche il bilancio di Torre Annunziata, dove ieri sono stati registrati 29 nuovi casi di contagio a fronte di 14 guarigioni. I cittadini attualmente positivi salgono dunque a 447, di cui però solo 12 ricoverati. Sono invece 63 i cittadini di Castellammare e Stabia risultati positivi al coronavirus nel periodo dal 22 al 25 gennaio. 39 di essi presentano sintomi lievi della malattia. I restanti sono asintomatici. Tra i nuovi contagiati ci sono 6 cittadini tra i 4 e i di 13 anni. I guariti per lo stesso periodo sono 22. Tra di essi 4 stabiesi tra i 4 e i di 16 anni. Questa notte a Castellammare e di Stabia, Napoli, Roma, Pompei, Santa Maria e la Carità, Quarto e Castelvoltù, due militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare e di Stabia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli. Nei confronti di 17 indagati, gravemente indiziati a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine, anche da guerra, con relativo munizionamento e ricettazione. Il complesso delle attività di indagini ha consentito di far emergere l'esistenza di una ridicata e proficua associazione destinata stabilmente da etita al traffico e alla vendita di sostanze stupefacenti, sia droghe pesanti, in particolare cocaina, che leggere, operande nel territorio di Castellammare e di Stabia, nello specifico nel rione Moscarella, con ramificazioni anche in altre zone della Campania. L'attività intrapresa nel marzo del 2017, in seguito all'arresto di un cittadino stabiese sorpreso in possesso di un'arma clandestina, ha permesso di accertare l'esistenza di un'associazione armata e finalizzata al narcotraffico, che si sprefiggeva alla creazione di un terzo polo camorristico nella città stabiese, distinto ed indipendente dai due clan che storicamente si dividono e contendono la signoria sul territorio. Nella disponibilità di tale consorteria criminale vi era un vero e proprio arsenale, costituito da numerose armi, anche clandestine, da guerra, a riprova dell'ascesa e del consolidamento del sodarizio, nelle cui intenzioni viene l'afforzamento militare finalizzato a imporre la propria egemonia e le proprie attività illecite sul territorio. A risconto delle attività di intercettazione in un lasso di tempo di circa un anno, sono state arrestate in fragranza di reato 5 persone, segnalate amministrativamente numerosi assolutori di sostanze stupefacenti, recuperate 10 pistole clandestine, 2 kalashnikov e oltre 500 munizioni di vario calibro, nonché ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, per un valore complessivo sul mercato illegale di circa 250.000 euro. Segnatamente sono stati sequestrati circa 27 kg di marijuana, 2,5 kg di hashish e 50 g di cocaina. I canali di approvvigionamento di droga per il gruppo erano vari, come è emerso nel corso delle indagini che hanno delineato diversi fornitori locali, ma anche dell'area casertana e pugliese. L'attività dei carabinieri coordinati dalla DDA di Napoli prosegue incessantemente come dimostrano gli ulteriori sequestri di armi, munizionamento e stupefacenti. Di fatti, di recenti in aree comuni all'interno del quartiere stabiese Moscarella, sono state rinvenute e sequestrate ulteriori 5 pistole con relativo munizionamento e circa 110 g di cocaina. Al termine delle formalità di rito, 12 indagati sono stati associati in carcere, due sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, mentre un altro indagato è stato sottoposto alla misura catturale dell'obbligo di dimora nel comune di Castellammare di Stabia, ed infine altri due alla misura di divieto di dimora nella città stabiese e nei comuni limitrofi. Grazie a tutti per la cortesia e attenzione. Grazie a tutti.